Benvenuti, benvenute, io sono Alessandro e oggi vorrei parlarvi della causa e dell'effetto. Ecco, sembra una cosa banale, no? Causa ed effetto. Succede qualcosa perché prima succede qualcos'altro. Eppure credo sia una di quelle cose che più l'essere umano sbaglia. Cioè, proprio si lascia confondere. Ma partiamo da un esempio pratico. Pensiamo a una dichiarazione recente, Robert De Niro. Robert De Niro compie 80 anni, dice il talento è una questione di scelta. E uno dice, ma com'è? Il talento è un qualcosa. Cioè, io nasco, so scrivere bene, nasco, so dipingere bene, questo è talento. No. Il talento è tempo dedicato. Il talento è allenamento. Non esiste, purtroppo, anche per fortuna, il talento così. Nasco che so scrivere, nasco che so dipingere, nasco. No. Significa che hai sudato un sacco e hai imparato a fare quella cosa lì. Qui non c'è nulla di genetico. Ma, vediamo, qualcosina c'è chiaramente. Però lì non stiamo più parlando di talento, stiamo parlando di successo. E ci sono delle differenze da fare tra talento e successo. Comunque, la cosa è questa. Dove poniamo le nostre energie? Nel senso, quando noi facciamo una scelta, significa che stiamo decidendo di dedicare quel tempo ad una certa attività. Dedichiamo proprio le nostre energie attivamente a quella cosa lì. Ed è, ed è guardando appunto la direzione verso cui vanno le nostre energie, che capiamo anche la direzione che sta prendendo il nostro cammino. Letteralmente, proprio dove stiamo andando. Verso dove stiamo andando. Se io mi allenassi tutti i giorni, sarò uno sportivo. Perché? Perché ogni giorno vado a correre, mi alleno, faccio gli addominali, faccio le cose. Non ho bisogno di vincere la Coppa del Mondo, la Coppa degli Europei, per essere uno sportivo. Semplicemente perché pratico quell'attività, posso essere considerato uno sportivo. Il ragazzo che molla la scuola e va, si allena, decide di concentrarsi sulla sua carriera da sportivo, non so, in un determinato sport. Sta decidendo che quella strada lì è la strada, diciamo, che preferisce rispetto a quella della scuola. Ma poi, chiaro, può non averle idee chiare essendo un ragazzo giovane. Però, comunque, sta prendendo una strada da sportivo. Cioè, le sue energie le sta dedicando in quell'attività lì. E non in quella, appunto, dello studio. E noi, alla fine, siamo quello che facciamo, quotidianamente. Cioè, se una persona durante il giorno si allena, si allena... È uno sportivo, appunto, è una persona che si allena. E se una persona, invece, scrive tutto il giorno, a quel punto è uno scrittore. Certo, può darsi non sia uno scrittore di successo. Può darsi, anzi, sia uno scrittore con letteralmente le pezze che stia morendo di fame. Uno scrittore sfigatissimo. Sì, però, comunque, uno scrittore. E, parentesi, ricordiamo che la maggior parte degli artisti, scrittori, eccetera, chi non fossero alla corte del re, pagati direttamente dal re, ecco, tutti gli altri erano... Cioè, non tutti. Però tanti hanno vissuto da poveri. Tanti hanno anche avuto successo dopo la morte. E poi ci sono, veramente, gli esempi che si potrebbero fare per quanto riguarda gli artisti sono tantissimi. A me viene in mente uno, di cui... Italo Svevo, famosissimo, no? La coscienza di Zeno. Lui, questo era il terzo libro che ha scritto. La coscienza di Zeno ha poi avuto successo, perché è stato aiutato da Joyce, che era suo amico. Lui ha detto, no, no, ma scrivi, poi dopo l'ha aiutato a farlo pubblicare, eccetera. Ma prima lui, che, parentesi, faceva il giornalista, ha scritto altri due libri. E se uno li leggesse adesso... Leggeteli, sono anche carini. E in qualche modo ricordano la coscienza di Zeno, come... Sembrano, ecco, un lavoro incompleto della coscienza di Zeno. Però la cosa interessante è che... Lui, l'italiano, non lo sa. Ci prova e non lo fa neanche correggere un amico, il libro. Ci sono delle costruzioni grammaticali, dei verbi messi un po' così, in maniera fantasioso. Comunque, lui è uno scrittore, anche se è sconosciuto, anche se non è pubblicato, anche se è uno scrittore. Tant'è che la conferma è arrivata dopo. È arrivata dopo e adesso, a distanza di cento anni, comunque lo leggiamo. E addirittura è, anzi, un libro consigliato, che piace. Ecco, vabbè, adesso io ho utilizzato queste etichette sportivo-scrittore, giusto per farmi capire. Anche se un po' semplificano la realtà, perché nessuno di noi è lo scrittore, è lo sportivo. C'è un esempio che potrebbe calzare. Ho questa amica che viaggia per l'Europa a piedi, in bicicletta. Parlando appunto di causa e d'effetto con lei, le diceva, tante volte le persone mi dicono, ah, tu che sei libera, che puoi viaggiare, e diceva, io che posso, ma che tu puoi. Cioè, io ho fatto in modo che la mia vita fosse costruita così. Io la mattina non debba pensare, non so, all'affitto, alla pattumiera, alle cose. Devo pensare dove andare, dove mettere la tenda al giorno, la sera, tutta una serie di cose, ma diverse. Cioè, lei ha fatto una scelta. Adesso uno può dire, ma che talento c'è nel viaggiare, eccetera. Qui in realtà stiamo parlando di scelte, cioè di dove uno pone le proprie energie. Ecco, viaggiare significa anche rinunciare a tutta una serie di comodità, significa aver fatto delle scelte, aver detto, non mi soddisfa il lavoro, voglio vivere in maniera diversa. Allora, durante una chiacchierata che abbiamo fatto con il professore Alessandro Pluchino, che è uno studioso di discipline complesse, ci ha raccontato di una sua ricerca riguardo al talento e al successo, e a come, diciamo, sia emerso che le persone che ottengono successo non siano necessariamente molto più brave delle persone che non lo hanno. Cioè, per capirci, se uno canta a Sanremo, o se uno canta all'uscita della metropolitana col cappellino per terra, uno si aspetterebbe, no, quello che va a Sanremo, o addirittura che vince Sanremo è mille volte più bravo, un milione di volte. No, magari è bravo uguale, magari è un po' più bravo, eccetera. Però non tanto è da giustificare, diciamo, come dire, la differenza di fama, la differenza di successo, eccetera. Quindi successo è una cosa molto, anche commerciale, in cui, appunto, due persone possono scrivere benissimo, però una sta sempre a casa, a scrivere, a scrivere, a riflettere, a cervellarsi, eccetera. L'altra persona, invece, scrive, scrive, però esce fuori, ha relazioni con editori, altri scrittori, eccetera. Beh, quale dei due verrà pubblicato alla fine? Beh, molto probabilmente la persona che socializza, la persona che ha relazioni, eccetera. Perché il successo non è dato dalla bravura. Il successo è dato da tutta una serie di fattori, che poi uno può dire, ok, quella persona è stata brava a mettere insieme tutta quella serie di fattori. Questo certamente sì. Ci sono diversi esempi che si possono fare, ad esempio due studiosi di una medesima materia. Magari questi due studiosi hanno lo stesso, diciamo, la stessa passione, si impegnano allo stesso modo, sono bravi allo stesso modo, ma uno di questi studiosi si è impegnato nella divulgazione, quindi nel cercare di trasmettere le proprie conoscenze ad un pubblico di non specialisti. e magari proprio questa qualità che uno dice ma è un ciccinino rispetto all'ammontare di studio che questo studioso sia dovuto sobbarcare durante la sua vita, sì, però questa piccola qualità in più è quello che va a distinguere magari questo studioso dagli altri. perché appunto sa comunicare. Anche qui, il talento, sì, il talento nella materia in quello studio, certamente, ma anche aver saputo sviluppare quei talenti aggiuntivi, diciamo, rispetto a quello principale, sono solettamente una questione di scelte, in cui uno dice, no, basta, aspetta, di questo ne so abbastanza, adesso devo capire come trasmettere questa conoscenza, quindi mi concentro su qualcos'altro. Ecco, tutte queste sono scelte. Non è che uno nasce e sa parlare bene, oppure nasce e sa correre in maniera veloce. No, ci vuole allenamento. Anche perché se uno prendesse una persona che sa, prendiamo un campione della corsa, e gli togliamo l'allenamento, poi quella persona non sarà più un campione. Non tornerà ad essere una persona come tutte. Perché se no, che senso avrebbe allenarsi, no? Se bastasse nascere col talento, uno sportivo non avrebbe bisogno di allenarsi. Potrebbe tranquillamente gareggiare, vincere. Che buona. E invece no, c'è bisogno dell'allenamento. Allora, passo dopo, è prendere una persona normale, una persona che non è un campione, che non è un sportivo, e allenarla, allenarla. Ecco. Se non mi allenassi, o uno di voi si allenasse per diventare velocissimo, in realtà diventeremmo velocissimi. Sì. Probabilmente, una volta che erano interallenati, una volta che il nostro corpo si è abituato, si è rafforzato, eccetera, diventeremo probabilmente i più veloci nella nostra compagnia di amici, nella nostra cerchia di conoscenze. Questo è una cosa che uno si può... È una cosa realistica, no? Mi alleno, mi alleno, mi alleno. Chi ha altri dei miei amici? Nessuno. Quindi io diventerò il più veloce nel mio gruppo di amici. Significa forse che avrò successo, vincerò le Olimpiadi, batterò il record di velocità stabilito da Usain Bolt? Assolutamente no. Ci sono tutta una serie di circostanze fattuali, economiche, sociali, eccetera, che non mi consentono questa cosa e non lo consentono la maggior parte delle persone. Banalmente, anche solo il fatto di magari essere non alti, come Usain Bolt, che è tipo un metro e novantasei, sfavorirebbe chiunque, perché appunto non avremmo le gambe lunghe come le sue. Quindi ci sono tutta una serie di circostanze che non si possono cambiare. Sono circostanze che non si possono modificare in alcun modo e però sarebbe, come dire, fuorviante pensare diciamo a questi obiettivi, a queste posizioni, appunto, come sono il campione del mondo o divento Presidente della Repubblica come punti di arrivo. Quelle sono cose che succedono. Perché parlo Presidente della Repubblica? perché avete presente la frase di Spider-Man famosissima «Le grandi poteri derivano grosse responsabilità». Significa sostanzialmente nel momento in cui qualcuno dovesse darti dovessi essere tu diventare una persona potente con dei grossi poteri ecco, utilizzali in maniera responsabile perché sono cose grosse. ma proviamo a reggirare questo detto cioè le grosse responsabilità derivano forse grossi poteri come la vedete? Allora, per me la risposta è sì cioè nel senso una persona che si occupasse di cose frivole frivole o comunque diciamo non particolarmente importanti uno si occupa di calcio tutta la giornata o di di altre materie ecco a quello pensa penserà al calcio penserà al portiere penserà al nuovo acquisto la nuova nuova punta della squadra eccetera se una persona invece si occupasse di questioni più importanti possono essere l'acqua l'istruzione il carcere la politica gli allevamenti non so tutte le questioni importanti letteralmente che poi possono essere anche la salute possono essere questioni più affrontate diciamo nell'opinione pubblica o meno ecco che uno occupandosi di queste questioni finisce anche per diventare una persona importante anzi non una persona importante da queste grosse responsabilità che uno si prende derivano anche grossi poteri e come fanno a derivare e beh perché prendendosi cura di queste cose che dicevo importanti cioè il cibo l'istruzione come cresciamo come viviamo la felicità eccetera per forza di cose uno deve anche attrezzarsi cioè nel senso per parlare di queste cose non è che puoi parlare col vicino di casa non è che puoi parlare con la prima persona che incontri hai bisogno di parlarne con chi se ne occupa adesso e chi se ne occupa adesso o chi se ne è occupato sono persone importanti e per cui uno si ritrova a parlare con l'assessore con il sindaco col politico col coso e poi hai bisogno anche di uno studio personale di una preparazione perché non puoi parlare con una persona importante tra virgolette e non parlare cioè ci devi parlare no? allora bisogna la tua preparazione personale per cui ci sarà tutto uno studio dietro e alla fine in maniera abbastanza incosciente uno si troverà ad avere gli strumenti per affrontare queste questioni importanti e gli strumenti per affrontare queste questioni importanti sono i grossi poteri i grandi poteri di cui parlava Spider-Man per cui vedete anche una frase così da grandi poteri derivano grosse responsabilità può essere rigirata quindi cambiando forse un pochettino la causa e l'effetto anche perché spesso sono più correlate di quello che gli esseri umani si immaginano ci sono ci sono delle volte in cui uno vede delle persone fare un qualcosa fare qualcosa che magari ci affascina però pensiamo se lui lo può fare perché è bravo lui può fare perché beh sì lui ha avuto quel è andato in quella scuola lì quindi quindi lui sì che riesce a farle queste cose io che non l'ho fatto io che non sono così bravo lei è così bella può fare quella cosa io invece no no raga questa è la mente questa è la mente che vi fa degli scherzi che vi sta dicendo delle cose che non sono vere e non dovete crederci nel senso provate provate voi a fare le cose non fatevi smorzare non fatevi abbattere da queste costruzioni mentali da questi castelli che uno che non so se uno si costruisca per rimanere nella comfort zone quindi non doversi mettere in gioco oppure per altri motivi però non bisogna crederci nel senso bisogna comprendere che siamo noi con le nostre scelte a decidere attivamente cosa vogliamo fare cosa ci piacerebbe fare poi certo ci sono le circostanze fattuali delle cose che succedono nella nostra vita che non possiamo modificare che magari ci sconvolgono magari ci abbattono eccetera però di base di base siamo noi a scegliere cosa vogliamo fare dove in quale settore vogliamo lavorare o essere bravi lavorare inteso anche non eccessivamente pagati proprio appunto lo sportivo che si allena tutti i giorni che magari non è un campione magari non è pagato però è sicuramente una persona sportiva che magari non è veloce come Usain Bolt però magari è solamente il 15-20% più lenta che non mi sembra una differenza eclatante e poi ricordatevi appunto che non possiamo prevedere il futuro per cui uno magari scrive adesso e poi magari in futuro verrà apprezzato o verrà apprezzata questa persona così come è successo da altri artisti in passato che non mi metto a citare però veramente se voi googlate o scrivete chat gpt ma quanti artisti sono diventati famosi dopo la morte sono veramente tantissimi a partire mi pare la van gogh ma gli stessi anche autori del passato che magari avevano fama in vita penso a Machiavelli penso a Manzoni che erano sicuramente persone conosciute poi il grandissimo successo che hanno avuto dopo perché mi pare che Manzoni avesse venduto una cosa come 2000 copie dei promessi sposi che ai tempi erano anche una tiratura non male adesso 2000 copie dei promessi sposi vengono lette in ogni istituto ogni anno per cui il successo che ho ottenuto è stato enorme ed è stato addirittura appunto cent'anni dopo e c'è ancora questo successo per cui sì se non avete talento in qualcosa ma pensate che vi possa piacere sperimentare fatelo anche perché appunto come dicevo alcune volte non sono queste vengono chiamate soft skill cioè non se io appunto sono lo studioso che è bravissimo in una materia in una sua materia principale e che dicevamo solamente grazie al fatto che sa divulgare riesce magari ad emergere eccetera appunto magari non è un drago della divulgazione però grazie a quella piccolina cosa che ha imparato e non si è arreso dicendo ah gli altri hanno il talento per divulgare e io no no si è messo lì ha studiato ha sperimentato poi ha trovato il suo modo uno può essere bravo a divulgare in una maniera un altro in un'altra ognuno trova il suo modo e quel modo lì poi può essere diciamo modo vincente ecco questo video è già durato abbastanza spero che sia chiara questa cosa della causa dell'effetto del talento non esiste il talento esiste il tempo esiste l'allenamento ma non il talento perché noi alla fine siamo riprodotti sociali e se siamo bravi in qualcosa se io a vent'anni sono bravo in qualcosa è perché quando ne avevo dieci ci ho sbattuto un po' la testa e se una persona sa sa parlare molto bene perché se l'è nata parlare molto bene o perché magari da bambino ha letto tantissimo perché magari in famiglia aveva delle persone molto capaci a parlare quindi ecco noi siamo letteralmente letteralmente dei prodotti sociali e questo è importante da capire perché se no altrimenti uno finisce per demoralizzarsi e dire mamma mia come è bravo quello lì e io che non sono bravo niente non mi impegno neanche no invece se voglio diventare bravo mi posso impegnare ce la posso fare ecco ce la possiamo fare tutti ognuno dovrebbe prendersi il suo merito ecco questa è la vera meritocrazia vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti